Il primo compleanno di Archie Secondo i ben informati, il primo compleanno di Archie sarebbe dovuta essere una grande festa, in puro stile Los Angelino. Forse addirittura un doppio party, per festeggiare sia il figlio di Harry e Meghan, sia George Clooney, grande amico della coppia, che compie gli anni sempre il 6 maggio. Invece il lockdown imposto dall'emergenza coronavirus ha per ora scombinato i piani. Pare che Harry e Meghan abbiano deciso infatti di ripiegare su dei più limitati festeggiamenti in famiglia. Intanto dall'altra parte dell'oceano, la Royal Family non ha voluto far mancare un proprio pensiero ad Archie, ed ecco quindi che dalla regina a William e Kate sono arrivati gli auguri per il primo anno del piccolo.